Introduzione al risk management nel trading. Benvenuto e benvenuta da Alberto Malini di Crypto Learners in questo video della serie Trading Tips. Vediamo oggi assieme un elemento fondamentale, il risk management. Parliamo anche, diamo un accenno anche di money management, sono due cose diverse ma questa è semplicemente un'introduzione, quindi per iniziare a comprendere di cosa stiamo parlando in termini di trading, questo è senza ombra di dubbio la cosa più importante in assoluto del trading, il risk management. Quindi lo vediamo assieme, stai con me. Oggi siamo alla Trading Tips numero 14, cercherò di tenerlo più breve possibile perché è un argomento semplice ma veramente in pochi lo adottano alla regola e quei pochi che lo utilizzano sono i grandi trader di successo e le persone che hanno fatto del trading, la loro professione e costantemente portano a casa soldi, quindi diventa la loro principale fonte di guadagno costante nel tempo, solamente applicando alla regola queste semplici regole. Scusa il gioco di parole. Poi è vero, come dicevo, è un'introduzione, quindi in pochi minuti lo vediamo appena accennato perché ci sono corsi interi, libri interi che parlano di questo argomento. Ma a noi ci interessa vedere la base, l'essenza di questo. Ok. Condividi questo video, sentiti libero di condividere, sentiti libera di condividere questo video con chiunque abbia la canale se già non sei iscritto o iscritta, contribuirai al lavoro che stiamo facendo, che lo stiamo facendo con grande passione, sia io che Ivan, che siamo i due fondatori di Crypto Learners. Altra cosa, piccolo disclaimer, tutto quello che vedrai qui oggi non sono consigli finanziari ma è la semplice condivisione di quello che è il frutto dei nostri errori, di strategie, quello che abbiamo studiato, imparato e che ovviamente adottiamo in corso d'opera. Bene, facciamo una piccola premessa. Il trading. Mai fare trading con soldi che non si è disposti a perdere. Attenzione, è vero che non vogliamo perdere soldi, quindi l'obiettivo principale è proprio quello di non perdere capitale ma anzi farlo aumentare. Però da un punto di vista psicologico non posso fare trading con i soldi che mi servono per pagare l'affitto, per pagare il mutuo a fine mese o le bollette. Assolutamente no. Questo è il tipico errore che si commette all'inizio o lo si commette proprio quando si ha necessità di farsi entrare dei soldi. Il trading è un'arte, come ho già accennato in precedenza, e diventa una professione seria solo quando si applicano determinati parametri con puntigliosa maniera. Ok, quindi mai fare trading con soldi che non si è disposti a perdere. Fare trading sempre con una piccola percentuale del proprio capitale, proprio risparmio. Non entro nel merito di questo, è qualcosa che decidi, deciderai tu sulla base della tua propensione al rischio. C'è chi fa trading col 10% dei propri risparmi, chi lo fa col 50% e chi lo fa con 1%. Questo sta semplicemente a te. La cosa importante, e questa è una regola che tutti i grandi trader insegnano, quando fai un trade, cioè quando fai un'operazione, falla sempre con un importo del tuo capitale di trading che va dall'1 al 2% mediamente. Ok? Questo è importantissimo. Quindi se io ho 100.000 euro con cui faccio trading, i miei trade saranno al massimo di 1.000 o di 2.000 euro. Ok? 1-2%. Cosa vuol dire questo? Quello che io mi prefiggo come massima perdita, se il trade dovesse andare male, quindi se il trade dovesse andare in negativo. Tieni presente, per un account magari un po' più piccolino, dove si fa fatica a ottimizzare le operazioni, puoi arrivare a un 5% al massimo, ma proprio esagerando, però tieniti come regola l'1-2%. Ok? Ripeto, i grandi trader professionisti di successo, cioè chi ne ha fatto una professione e chi ha accumulato sempre più soldi nel tempo, applica questa regola alla lettera. Perché questo? Perché nessuno ha la sfera magica di cristallo in mano, quindi nessuno può sapere se il mercato va nella direzione del mio trade oppure va al contrario. Nessuno, neanche i più grandi trader al mondo. I più grandi trader al mondo entrano nell'ordine di idee di fare il 50% di trade in profitto e il 50% di trade in perdita, cioè che non vanno bene. Quindi se lo fanno loro, perché noi dobbiamo pensare di azzeccare tutti i tre? È letteralmente statisticamente impossibile. Però applicando un sano risk management con un 50% di trade vincenti, un 50% di trade perdenti, comunque nel lungo periodo andrò, andrai a guadagnare dei soldi. Ripeto, non è un financial advice, non è un consiglio finanziario, è semplicemente frutto di esperienza, frutto di studio, lavoro di tante altre persone e anche mia in particolare ed IVA. Cosa vuol dire questo? Come faccio a andare in profitto se metà dei miei trade vanno male e metà dei miei trade vanno bene? Con un sano risk management. Come fare questo? Ok, lo vediamo assieme. Prendiamo il nostro amico Bitcoin, grafico giornaliero, andiamo un pochettino indietro nel tempo per vedere determinate oscillazioni, per facilità di esempio. Ripeto, questo vuole essere, questo video vuole essere solo un'introduzione, solo un farti accendere la lampadina e darti delle regole, se vogliamo, ferre a cui attenerti. Poi c'è davvero tanto di cui parlare. Sarebbe, ripeto, parlare per ore, come entrare nel trade, come applicare risk management. Vediamo per ora le basi. Allora, prendiamo questo andamento, ok? Da qua a qua, nettamente trend in discesa, ok? Lo vediamo perché abbiamo degli swing low, swing high, cioè i punti, i ritorni in rialzo che però sono più bassi del precedente high, swing low ancora più basso del precedente, swing high più basso del precedente high e così via. E arriviamo a un punto dove c'è una sorta di inversione, ma in realtà no, siamo ancora in trend discendente perché questo swing high è ancora più basso. Ammettiamo che ci troviamo qua, ok? E abbiamo visto delle candele interessanti, interessanti perché ci fanno pensare che ci possa essere un'inversione di trend. Tipo, ripeto, non entro troppo nel merito dell'analisi tecnica. Questo l'hai visto in altri video, lo vedrai in altri video. Solo per facilità di comprensione del risk management. Decido, dato che ho visto questa candela con uno stoppino, un week inferiore molto lungo e tra l'altro chiude in positivo, posso iniziare a pensare, anche qua c'è stato uno stoppino molto lungo, che siamo di fronte a un'inversione di trend. Quindi dico, ok, voglio entrare, diciamo, passata questa giornata qui ho visto che è positiva, con una forte spinta dei bulls verso l'alto, perché il prezzo al fine è chiuso su, voglio entrare con un long, cioè scommetto che il mercato va su. Cercherò di entrare nel punto più vicino al mio swing low, ok? Cioè questo. Ovviamente non è sempre facile, ma mettiamo che oggi non ci riesco, entro qua, il giorno dopo. Abbiamo uno strumento su trading in view, molto utile, qui sulla sinistra, long position e short position. Vado a cliccare su long position, mettiamo che sono riuscito ad entrare qui col mio trade, ok? Sono entrato qua, andrò ad aggiustare il mio stop loss, fondamentale lo stop loss, ok? qui, di poco al di sotto. Vediamo che lo metto, allora guardiamo proprio, sono entrato su una candela, su una candela, ok, scusami qua. Mi interessa questo swing low, ho visto che è stato il punto più basso, poi ha invertito, mi fa pensare che il mercato inverta, non posso saperlo, non ne sono sicuro, entro long. Il punto più basso dello swing low è stato questo, che non lo leggo perché non me lo fa leggere, ah eccolo qua. Qui, il punto più basso è 6516. Quindi metterò il mio stop loss un pochettino più in basso, diciamo 6.280, giusto per tecnicismo. È un po' altino come 8,52%, nulla a che vedere con l'1-2% di cui ti ho parlato prima. Quella è la percentuale di perdita massima per ogni trade rispetto al capitale di trading. Questa è la proporzione tra quando entro e lo stop loss, è l'8,5%. L'ideale sarebbe stare intorno al 5%, però ripeto, non entriamo in questo tecnicismo perché ci sarebbe tanto, veramente tanto da dire. Quello che a me interessa è che il mio stop loss rispetto alla possibilità di guadagno sia almeno della metà, o meglio la mia possibilità di guadagno sia almeno il doppio di quello che io posso perdere in questo trade. Ecco come faccio nel lungo periodo a 50 trade persi, 50 trade vinti ad andare a guadagnare. Ok, quindi cosa vuol dire? Se mi va al di sotto, qui io ho perso il mio trade, se va al di sopra guadagno. Poi ci sono tanti altri elementi di cui poter parlare, ma ripeto ci vuole più tempo, più video, corsi, più formazione per capire anche come gestire un trade. Magari a un certo punto abbasso il mio stop loss, cioè limito ancora il stop loss o addirittura lo elimino, quindi porto il trade a rischio zero man mano che il trade va nella mia direzione, ma non è questo il video di cui parla di questo. L'importante è capire il risk management. Cosa vuol dire? Va avanti il prezzo, va avanti, va avanti, va avanti, qui ritorna un pochettino più giù, però ho messo un stop loss un po' più basso, un po' tanto più basso dello swing low, c'è un altro swing low e nel momento in cui il prezzo va nella mia direzione, qua lo vado a chiudere guadagnandoci il doppio di quello che avevo messo a rischio. Stessa cosa lo posso fare qua? Vedo che va su, va su, va su, qui si inverte, ok? Magari non entro subito perché questo swing low è comunque più alto del precedente swing low, quindi mi può far pensare che il trend sia ancora in salita. Qua ho uno swing low più basso dei precedenti, quindi qua chiaramente il trend si è invertito. Arrivo qui e dico, ok, qua mi si sta invertendo. Qui entro, decido di entrare short. Decido di entrare short, magari riesco, obiettivo entrare più vicino possibile allo swing high, ma diciamo che entro circa qui a metà, ok? Quindi aggiusto il mio stop loss poco sopra lo swing high, 8,49%, e porto il punto di chiusura del mio trade qua almeno al doppio. Ecco che in questo caso ora è un altro trade vincente. Questo è il tipico risk management. Ovviamente non va sempre bene. Torniamo a questo trade qua. Mettiamo che avevo messo appena appena sotto il mio stop loss sotto lo swing low. qua mi viene chiuso. Quindi il trade, per quanto comunque nel lungo periodo va nella mia direzione, però qua avendo messo uno stop loss un pochettino troppo tirato, il trade non mi si era chiuso. Neanche aggiustandolo. Vediamo un attimo. Aggiustandolo al 2, al doppio. No, qui non sarei riuscito a chiuderlo in profitto, ma mi sarebbe andato chiuso con lo stop loss. Ecco, questo è l'essenziale, proprio le basi del risk management. Dall'1 al 2%, massima perdita, quindi lo stop loss per i tuoi trade. Ripeto, può arrivare fino al 5% nel caso di account un po' più piccoli. Ma questo è quello che sul lungo periodo ti farà evitare di perdere soldi, quindi di andare in liquidazione del tuo conto trading, che sia forex, azioni o che sia criptovalute, ma di generare costantemente profitti. Poi starà a te, migliorando l'analisi tecnica, le tue conoscenze, con l'esperienza, a guadagnare sempre di più sui trading profitto, quindi farli correre sempre di più, andando a limitare i rischi, e iniziare a migliorare anche i punti d'ingresso dei tuoi trade, quindi magari portando la percentuale 50 vittorie e 50 perdite a 55 vittorie contro 45 perdite. E questo fa aumentare nel lungo periodo le possibilità di guadagno. Bene, questo lo volevo tenere corto, ce l'ho fatta. Queste sono veramente le basi, l'introduzione al risk management è davvero il sacro graal del trading, la cosa più importante in assoluto rispetto a oscillatori, punti d'ingresso, punti d'uscita. Questo è veramente quello che ti permetterà di avere risultati in un lungo periodo. Bene, per questo è tutto, ripeto, ti è piaciuto questo video, facci sapere cosa ne pensi, condividi, iscriviti al canale, schiaccia un like, condividi questo video con chi ha la tua stessa passione, grazie per il tuo tempo, un grande abbraccio qui da Alberto di CryptoLevel, ciao!